Si è discusso dell'opportunità di realizzare una stazione di rifornimento di gas naturale liquefatto sul Mediterraneo ieri a Palermo. All'incontro istituzionale hanno partecipato i vertici della regione siciliana, del comune di Gela e dell'Eni. Tra gli argomenti affrontati è anche la questione degli oneri di compensazione. Il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano. Si prova a trovare un accordo tra regione, comune, quindi amministrazione comunale ed Eni per proseguire con le due fasi che sono necessarie e imprescindibili per realizzare la stazione di rifornimento GNL. Queste fasi in cosa consistono? Consistono fondamentalmente nel creare la domanda, cioè consolidare la domanda oltre a quella che ha già valutato Eni. Ad esempio la regione proverà a coinvolgere la flotta peschereccia di Mazzara per provare a capire se un refitting navale per i pescherecci possa permettere di garantire una quota di mercato rilevante per Eni e sostenibile per i pescherecci del Mediterraneo. D'altra parte l'amministrazione ha già lavorato da diverse settimane con contatti con operatori del settore per consolidare nuove quote di mercato, il tutto per cercare di giustificare un investimento che la comunità europea ritiene tra le primarie fonte alternative per la transizione dai combustibili fossili di origine classica a quelli più sostenibili come l'uso del metano che sono a basse emissioni di CO2. Si è cominciato a discutere le tipologie di opere, le competenze di Eni, cosa la regione e l'amministrazione ritengono prioritario. E' chiaro che a questo incontro seguirà, almeno per quello che riguarda l'amministrazione, a breve, entro prossima settimana, un incontro con i rappresentanti del Consiglio Comunale, i capigruppi del Consiglio Comunale per identificare le priorità sui progetti da realizzare oltre a quelle che già l'amministrazione ha messo in una lista, quindi in aggiunta a questi, per appunto trovare il modo di far ricadere sul territorio l'investimento, questo investimento di 32 milioni di euro che darebbero una boccata d'ossigeno notevole al territorio. E' stata celebrata nei locali della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, diretto da Viviana Aldisio, la giornata dell'Intercultura. Notevoli i messaggi che hanno rappresentato il filo conduttore delle attività svolte, a partire dalle 9 del mattino e fino alle 6 del pomeriggio, nella prima giornata di primavera. No ad ogni forma di discriminazione, stereotipi e pregiudizio, sia alla convivenza, alla solidarietà, all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità. L'obiettivo della giornata che viene celebrata ogni anno è quello di condividere la scoperta delle affinità e i punti di contatto tra le diverse culture nella prospettiva di una coscienza interculturale. All'aggiornato un importante contributo è stato fornito dall'Istituto Alberghiero di Gela. Gli studenti dell'Istituto Professionale hanno allestito infatti tavoli colmi di prelibati piatti tipici dei diversi paesi del mondo per sottolineare come anche il cibo racconta la cultura e le tradizioni dei popoli. Le attività svolte hanno visto impegnati gli alunni in varie rappresentazioni musicali e teatrali, esibizioni canore in italiano, inglese e francese, coreografie e letture espressive di favole etniche, interpretazioni di dialoghi e poesie ad ambientazioni etniche. Sono stati inoltre proiettati filmati per celebrare la ricchezza delle diversità come patrimonio dell'umanità da tutelare e valorizzare. C'erano anche gli atleti dell'Associazione Sportiva Gelese Orizzonte al Liceo Classico Giovanni Meli di Palermo per la giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down per raccontare le loro esperienze e le loro emozioni. Attraverso i racconti dei protagonisti nella tappa Special Sport Day di Palermo si è voluto dimostrare che è possibile spezzare i pregiudizi nei confronti dei soggetti disabili. Moltissimi gli atleti gelesi pluripremiati che hanno conquistato negli anni medaglie in diverse competizioni nazionali ed internazionali che hanno potuto interagire con gli studenti del Liceo Classico del capoluogo regionale. I nostri campioni erano accompagnati dai volontari Silvana Palumbo, Gianfranco Cassarino e Laura Salucci. Le esperienze raccontate dai nostri atleti, ha dichiarato il presidente dell'Associazione Orizzonte Natale Salucci, hanno entusiasmato gli studenti con la speranza che queste iniziative possano contribuire a cambiare atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità. Il programma di Special Olympics, continua Salucci, ha dimostrato che ciò è possibile attraverso lo sport per raggiungere l'ambito obiettivo della completa inclusione sociale. L'emozione della poesia è la poesia delle emozioni in un viaggio attraverso tutto il pianeta con corte di fiction, videopoesia e videoclip, a dir poco geniali ed ammarianti hanno caratterizzato l'ottava edizione del Festival Modicano gemellato a Gela. La lettura dei versi dei poeti Carmelo Nicosiano e Rocco Vacca hanno impreziosito la seconda serata rendendo omaggio anche alla Settimana Santa celebrata e vissuta da tutta la comunità con estrema devozione. La Giudea Popolare ha assegnato i premi Gelo in Versi 2016 che sono stati consegnati personalmente da Elio Cassarino al direttore artistico del Festival Versi di Luce 2016, Tiziana Spadaro a Modica, la quale ha chiesto alla città di Gela una programmazione in rete delle future manifestazioni cinematografiche e culturali. Al primo posto è arrivato un cortometraggio spagnolo dal nome Situ Viera Noios che è stato un cortometraggio molto apprezzato, ha vinto con un punteggio di 375 voti, subito dietro a distanza di 3 voti è arrivato un cortometraggio italiano, l'ultimo viaggio, che devo dire anche anche se è stato molto apprezzato dal pubblico e rappresentava un cortometraggio che trattava delle tematiche molto più leggere e anche quest'anno dobbiamo dire che i cortometraggi si sono rivelati veramente di grande qualità, questo dovuto anche alla selezione che avviene da parte della giuria del Festival del Cinema Zia di Monica che di Gela. Nella seconda giornata abbiamo assistito alle videopoesie e videoclip, al primo posto è arrivato la videopoesia Ferro Ormola che è anch'essa vincitrice di tanti premi in tutta Europa e al secondo posto il videoclip Sorrow in Two Stone. Un grande successo di pubblico e anche di critica, un evento di qualità che senza dubbio eleva la nostra città anche a livello del comprensorio per un evento di grande spessore culturale. La due giorni è andata bene a livello di successo di pubblico anche considerando che la seconda giornata era un lunedì lavorativo, la chiesetta San Biagio era piena e devo essere sincero sono rimasto molto soddisfatto dell'organizzazione delle associazioni che hanno scelto i cortometraggi, le videopoesie, sono state di grande qualità e finalmente abbiamo visto a Gela qualcosa di diverso. E' aperta da due giorni la bretella che collega la città all'autostrada, a 19 nel silenzio totale è stata riaperta un'arteria che a causa della prolungata chiusura ha congestionato notevolmente l'economia cittadina. Aperta sì ma sempre con notevole ritardo rispetto alle promesse troppe, tante, fatte dalla ditta che si sta occupando dei lavori della 640 e in un silenzio indifferente delle istituzioni fatto salvo qualche guizzo di un gruppo di consiglieri comunali. Numerosi gli annunci di richiesta di risarcimento o danni alla città. Ma solo annunci l'amministrazione mute ed immobile e gli altri a seguire con alterne fortune. Il consiglio comunale che rappresenta il popolo elettore dopo un primo momento in cui pare forse una delle poche volte in cui stavano uscendo tutti i compatti nella decisione di intraprendere un'azione legale comune, qualche battitore libero, il Pierino di turno, ha voluto fare una fuga in avanti per attribuirsi una paternità e dunque l'alleanza si è rotta ed i consiglieri che avevano firmato un documento per la richiesta di risarcimento da mettere all'ordine del giorno in consiglio comunale hanno ritirato le firme. E siccome la cronaca vuole, pretende nomi e cognomi, la causa delle rotture è stato l'Udc, uno dei partiti dell'alleanza. Ma oltre alla politica, che altro la gente e i cittadini hanno fatto? Tanto parlare sui social, ma nulla di più. Adesso il risarcimento dei disagi subiti dovrebbe arrivare al di là delle primi geniture. Ritornando alla bretella in senso stretto, ovvero alla percorribilità, al momento di una sola corsia per entrambi i sensi di marcia, tuttavia abbastanza grande per rendere il traffico scorrevole. Dottore Marino, l'attività continua da parte della Polizia, ora maggior ragione dopo gli attentati che sono verificati in Belgio. Numerosi, se vogliamo, gli obiettivi sensibili anche a Gela che voi monitorate giorno dopo giorno. Come sapete l'attenzione delle forze dell'ordine in generale sulla realtà di Gela da sempre è alta. In questo periodo, soprattutto, ma già da qualche mese, per disposizione del Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica e le varie forze di Polizia attuano un sistema integrato, ciascuno per i propri obiettivi, per non tralasciare nulla. Essendo Gela, per certi aspetti, è molto molto importante, mi riferisco alle gecenze della raffineria, al porto, come tutti i porti all'aeroporto, ahimè la cronaca di questi giorni ci conferma sempre che sono obiettivi molto dedicati e anche le piattaforme petrolifere. Da qualche mese facciamo un servizio integrato di vigilanza fino alle piattaforme, sfruttando la squadra nautica e guardie di Francia e carabinieri, quando ci sono i mezzi, per fare in modo che ogni giorno ci sia anche una copertura a mare per questi obiettivi. La paura è tangibile? La paura sarebbe utopistico non pensare che oramai è ovunque, perché purtroppo il messaggio che i terroristi vogliono mandare è proprio quello di non fare stare tranquilli da nessuna parte e per nessun motivo. Possiamo essere onestamente e soprattutto coscienziosamente contenti perché il dispositivo, a parere mio, è molto molto ruotato e soprattutto grazie alle direttive e all'imbuto dell'autorità giudiziaria riusciamo con le direttive del coordinamento del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica ad avere un sistema che, ripeto, funziona e soprattutto c'è un ottimo scambio di informazioni tra le varie forze di polizia impegnate sul territorio che, per esempio, faccio un esempio molto semplice ma denota l'attenzione, l'arresto di due giorni fa di uno dei due fratelli albanesi e rientrava clandestinamente dall'Albania dopo un prevedimento di espulsione del signor questore e non è facile, capite bene, se la macchina non funzionasse andarla a individuare e soprattutto arrestarlo su disposizione del procuratore capo, la dottoressa Lotte. Perciò in questo senso abbiamo avuto anche un piccolo riscontro quotidiano di come l'attenzione alta e l'attività di prevenzione funziona. Ci sono a Gera musulmani presenti e se ci sono c'è un monitoraggio continuo? Allora, il monitoraggio noi, perché non voglia sembrare un qualcosa di specifico in negativo, lo facciamo quotidianamente con le pratiche che l'Ufficio Immigrazione, in sinergia con l'Ufficio Immigrazione della Questura, regolarmente rilascia. e vi posso assicurare che la stragrande maggioranza delle pratiche sono tutte di gente stanziale, che lavora, che ha un motivo valido per stare, oltre agli immigrati che vengono ospitate momentaneamente, tengo a precisarlo, nelle comunità che aiutano la macchina dell'accoglienza in attesa del desbruco delle pratiche. Manca solo un mese alla conclusione dell'AIF, Leopoldi e la regione siciliana non ha ancora impegnato la cifra per realizzare le azioni concrete di sua competenza. Nell'area costiera Macconi di Gela si doveva procedere con opere di conservazione e di protezione delle dune. Al vivaio di Randello sono state riprodotte migliaia di piante tipiche del paesaggio dunale, proprio con l'obiettivo di essere messe a dimora all'interno delle aree di progetto. Se la regione siciliana non procederà nell'impegno spese e nella realizzazione delle opere di sua competenza, seguendo gli impegni presi, verranno restituiti all'Unione Europea 300.000 euro e circa 60.000 piante prodotte da germoplasma locale non verranno messe a dimora sui Macconi di Gela. Se invece la regione siciliana si fosse attivata in tempo, si legge in una nota a firma dei responsabili del progetto, gli operai forestali avrebbero potuto svolgere le opere di tutela del patrimonio ambientale. Abbiamo uffici e competenze pronti a poter svolgere questi compiti, leggiamo ancora nel documento, ma senza aggiornamento e l'attivazione delle dovute procedure non riusciamo ad innescare quei processi che ci consentono di raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei. La regione siciliana dovrebbe mettere in campo azioni per salvaguardare il nostro patrimonio naturale e recuperare ciò che abbiamo perso ed evitare catastrofi ambientali. L'ex azienda Foreste e la cecità della regione rendono inutile il sostentamento degli operai forestali, ha dichiarato Emilio Giudice, direttore della riserva del biviere di Gela. L'adesione a progetti europei come l'AIF, innescando meccanismi di formazione e di specializzazione, riqualifica l'uso e l'utilità degli operai stessi, spesso addetti ad attività meno importanti e poco gratificanti. Oggi il nostro paesaggio naturale ha bisogno di specializzazione e competenze. Rendiamo utili forestali nelle attività che servono come la ricostruzione degli habitat e spingiamo per la crescita e l'innovazione. Per ridurre al minimo le perdite delle piante riprodotte al vivaio di Randello, gli operatori del progetto Leopoldi hanno organizzato per le date del 30 e 31 marzo e per il 1 e 2 aprile una due giorni di attività intensa con lo scopo di mettere a dimora sulle dune di Gela quante più piante possibili con l'aiuto di tutti i cittadini, associazioni e amanti della natura. L'invito è aperto a tutti e l'appuntamento sarà dalle 10 al centro visite della riserva del biviere di Gela. Per informazioni e adesioni c'è un numero di telefono 366 4520 644 oppure su Facebook alla pagina Leopoldi Alive Project. Le rilevazioni condotte a Niscemi dal 9 all'11 marzo scorso dai tecnici incaricati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa escludono che le antenne dell'impianto satellitare della Marina militare statunitense, MUOS, siano nocive per la salute. I campi elettromagnetici, dicono i tecnici, raggiungono le decine di 1000 volt metro solo in un'area limitata circa 200-300 metri verso sud dalla piattaforma dell'impianto, altrove sono inferiori al centesimo di volt per metro. Il Tribunale Amministrativo Regionale e poi il CGA avevano accolto il ricorso del Comitato NUMOS per bloccare i lavori pur condizionandolo all'analisi adesso consegnata dai tecnici. Non ci aspettavamo nulla da rilievi, era un test di comodo, dice il Presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna, è fatto in modo blando e senza alcun rigore scientifico, ma se qualcuno pensa di poter riprendere il percorso che porta alla sua messa in opera commette un grave errore e compierebbe atti illegali perché il MUOS, dice ancora, è e resterà pur sempre un'opera abusiva realizzata in una riserva naturale, la suggereta istituita nel 1987 dalla regione siciliana, in un'area di grande pregio paesaggistico che solo l'arroganza di chi l'ha progettata, di chi l'ha tacitamente consentita, ha potuto violare pensando di farla franca. Questa verità non si può cancellare, nascondere o far tacere. Per il coordinamento regionale dei comitati non MUOS le ultime misurazioni sono state fatte a casaccio senza un preciso modello previsionale. Tutti i sistemi di antenne erano comandati da remoto, dunque fuori dalla base di Niscemi, senza possibilità di alcuna verifica sulle reali modalità di utilizzo delle antenne. Lo stesso coordinamento, inoltre, sottolinea che finora il giudice amministrativo non ha mai affrontato il problema dell'inedificabilità assoluta dell'area nella quale è stato realizzato il MUOS, così come sallevato dalle parti ricorrenti. La Cassazione, giorni dietro, ha confermato l'abusività dell'opera proprio perché realizzata in area inedificabile. Doccia gelata per 115 operai della SMIM Impianti, destinatari di lettera di licenziamento, un colpo durissimo al già compromesso tessuto occupazionale locale. Nella missiva firmata dall'amministratore unico dell'azienda si fa riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro perché la chiusura per riconversione della raffineria Eni non consente la ricollocazione alla lavoro del personale in esubero. Giovedì prossimo in Prefettura a Caltanissetta doveva tenersi una riunione per affrontare il problema, ma prima ancora sono arrivati i licenziamenti. L'azienda è dovuta ricorrere alla mobilità a seguito, si legge nella nota inviata agli operai del diniego da parte del Ministero del Lavoro alla richiesta di proroga della Cassa Integrazione straordinaria per cessazione della ramo di attività. Quanto accaduto nelle ultime ore sono delle provocazioni e noi non le accettiamo. Lo dicono i segretari confederali di Cigelle, Cisle, Will, Ignozio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania. La SMIM impianti, sottolineano, ha lavori per milioni di euro, non può licenziare. Dire che si tratta di una scelta inopportuna e non solo per il giorno scelto, ieri, venerdì santo, è poco, ribadiscono i sindacalisti, perché in verità si tratta di un vero e proprio atto di provocazione nei confronti dei lavoratori del loro sindacato, che ha già detto no alla mobilità. Il prefetto, ricordano le sigle sindacali, già due giorni addietro ha inviato la convocazione fissata per il 31 marzo al fine di comprendere le ragioni di questa assurda scelta. Stiamo parlando di un'impresa, dicono ancora, che dall'ottobre dell'anno scorso deve iniziare un lavoro da milioni di euro per conto della raffineria. Vorremmo sapere le ragioni del mancato inizio. Stiamo parlando di un'impresa che deve erogare mesi di salario ai lavoratori e il TFR a coloro che sono andati in pensione. È la stessa impresa che abitualmente, sottolineano Giudice, Gallo e Castania, due giorni prima di ogni incontro al Ministero o in Prefettura, esce fuori con queste scelte che aumentano l'attenzione sociale in città. Cigelle, Cisle e Will, assieme alle categorie dei metalmeccanici, non ci stanno e rivendicano lealtà nei confronti dei lavoratori e della città. Lo stesso invitiamo a fare ad Eni, una delle committenti di SMIM Impianti. Le provocazioni le respingiamo con forza. Noi l'abbiamo definita una vera e propria doccia gelata, perché è chiaro che noi non vi aspettavate che ieri, giorno del venerdì santo, vi arrivasse a casa la lettera di licenziamento. Sì, nessuno si aspettava una cosa del genere in realtà, anche se c'erano dei pensieri. Però diciamo che la società, ancora non abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, perché la società naturalmente poteva evitare anche il discorso di mandargli il venerdì santo o aspettare addirittura il 31 che c'era la riunione a Caltanissetto in Prefettura. Quindi ci sono diversi punti che bisogna chiarire, anche perché la nostra società, o ex società ancora non sappiamo in realtà come la dobbiamo chiamare, ha avuto anche un lavoro dalla raffineria. Di conseguenza dobbiamo capire anche se lo deve fare questo lavoro o meno. Poi ci sono altri tassi che dobbiamo vedere. Cioè dire il discorso del non presenza dell'amministrazione comunale, non invito della regione addirittura, perché la regione dovrebbe essere là venerdì e invece tutto questo non c'è. Allora signori, cerchiamo di svegliarci e unirci soprattutto per il nostro territorio e fare qualcosa di serio. Una Pasqua amara per tutti voi? Troppo amara, perché poteva evitare anche questi licenziamenti. A quanto che c'è qualche incontro a Palermo e si vedrà quello da farsi anche le istituzioni saranno, credo, con noi. Però è una doccia troppo amara. Ed è chiaro che ora voi chiedete un impegno immediato risolutivo da parte di chi di competenza. Ci rivediamo all'amministrazione comunale, ci rivediamo al governo regionale. Sì, perché naturalmente io credo che sono loro quelle che onestamente possono intervenire, anche se non lo so quello che hanno in mente, che cosa vogliono fare. Perché già è da parecchio tempo che questa cosa va in ballo e vedo che sembra rimbomba da una parte o dall'altra. Qualcuno dice che si deve occupare la regione, qualcuno deve il sindacato, ma invece vedo che questa cosa sembra rimbalza. Quindi non lo so se c'è effettivamente una vera volontà per poter risolvere questa problematica. Quando siamo stati in Roma, la Lobello è stata intervistata dicendo, uscendo dal Mise, che c'era il 5%, problemi non ce n'erano. È anche vero che aveva detto che non c'erano più tre mesi, ma c'erano un anno. Ma io voglio capire, la Lobello, se questa cosa l'ha detta così tanto per far contenti a noi, o in realtà ci sono questi fondi? Noi chiediamo come lavoratori o Gmimmi o un'altra società che l'Eni si mette in moto, anche un'altra società, di lavorare. Noi chiediamo come lavoratori o Gmimmi o un'altra società che si mette in moto, anche un'altra società che si mette in moto, anche un'altra società che si mette in moto.